Cari amici, oggi parliamo di quella singolare figura retorica che è la sineddoche. La sineddoche fa parte di una più ampia figura retorica che è la metonimia. Va bene? Allora, sineddoche vuol dire prendere la parte per il tutto. Per esempio, se guardo lontano all'orizzonte sul mare e vedo giungere una flotta, vedo le vele avvicinarsi, voglio dire vedo le vele, vedo una flotta che si avvicina. E' così qua, è molto comune sentire dire di una donna, scusatemi il termine, ma che bella figa, voi non avete mai sentito dire di un uomo, scusatemi, ma che bel cazzo. Ora vediamo che la sineddoche, cioè questo modo di esprimersi, nasce col patriarcato e la musica è sempre quella. L'ho già descritta la nascita del patriarcato nel romanzo La stirpe del serpente. Tempo fa, in una trasmissione televisiva sulla quale tra l'altro un blogger mi ha mandato il link e io su quella trasmissione televisiva fece un video, non mi ricordo il titolo, c'era Vittorio Sgarbi che tutto trionfante, tutto trionfante, come al solito, tutto trionfante, diceva Ma di un uomo non si dice mai che è un bel cazzo, di una donna si, si dice che è una bella figa, come a dire che, scusatemi, che appunto il cazzo non conta, il cazzo non conta. Certo, lo ha stabilito il patriarcato, ma vediamo un po' la faccenda di che bella figa, vediamo un po'. Torniamo ad Aristotele, il grande filosofo, il grande filosofo Aristotele, il quale disse, dice Ipsi Dixi, che la donna, altro non è che un contenitore, si dice un mero, mero contenitore, è un contenitore dello sperma dell'uomo. La grande scoperta dello sperma è, chi mi segue, chi mi segue, la conosce bene la storia, non sto qua a ripeterla, è la proprietà privata, nasce, nasce proprio con questa faccenda qua, tant'è vero che la parola proletario indica colui che come unica proprietà privata c'è i propri figli, c'è la paternità, no? Un accertamento della paternità, un accertamento della paternità, si può dire che ha caratterizzato tutta la storia dell'Occidente e dell'Oriente a partire dalla nascita del patriarcato. Bella figa, Aristotele dice che la donna, altro non è che un mero contenitore dello sperma maschile, infatti sin dalla nascita del patriarcato la donna viene considerata come colei che perpetua il sangue, la stirpe dell'uomo, anche se tutto il lavoro viene fatto dalla donna, nove mesi di gestazione, nove mesi, una metamorfosi incredibile, una trasformazione incredibile, poi l'allattamento viene di seguito, ma il merito se lo prende l'uomo con quella piccola quantità di sperma che accompagna l'eiaculazione, viene identificata la donna per il suo organo genitale e si chiama Sineddoche. Io ricordo che non tanto tempo fa andai nel bar di una piscina comunale dove c'erano anche degli attrezzi ginnici e senti dire, vedi un gruppo di ragazze che mi passarono accanto mentre io prendevo il caffè e fumavo una sigaretta all'aperto mi disse, dai andiamo a fare la sigletta, così diventiamo anche noi delle belle fighe e io credo che se ho sentito quella frase, non è stato un caso, credo che in tanti altri posti anche altre ragazze dicano la stessa cosa, dai andiamo ad abbronzarci così diventiamo delle belle fighe. Non ho mai sentito io dei ragazzi che andiamo in palestra così diventiamo dei bei cazzi. Ecco, mentre nei confronti dell'uomo non si prende la parte per il tutto, nei confronti della donna si prende la parte per il tutto e quale parte si prende? Non la parte nobile, la mente, non la parte nobile ma si prende, scusate, la figa, la vagina, la vulva, quella lì è una gran bella figa, ovviamente si vuol dire è una gran bella donna, però la si designa con la parola figa che è una parte, una classica sineddoche, queste cose non le dicono nei testi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori, quando fanno l'esempio della sineddoche fanno altri esempi, non possono fare questo esempio, però se si facessero nelle scuole questi esempi gli studenti capirebbero meglio che cos'è la sineddoche e come nasce la sineddoche. Dietro c'è il patriarcato e soprattutto c'è Aristotele, è tutto il pensiero che poi segue da Aristotele, perché ha fatto scuola Aristotele, i Psedixi ha fatto scuola, tanto è vero che ancora oggi vale, 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 è costato così forte il pensiero di Aristotele che vale anche oggi e noi ubbidiamo al pensiero aristotelico ancora oggi con queste frasi, perché ancora oggi noi identifichiamo la donna in una sua parte significativa per noi, una parte che è quella della perpetuazione della specie, alla quale perpetuazione della specie tra l'altro noi partecipiamo in una misura infinitesimale con una modica quantità di sperma che stando ai sessuologi non supera un cucchiaino di caffè. Va bene cari amici, questa è una lezione di retorica, diciamo retorica patriarcale. Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.